degli anziani stanno giocando a carte al bar solo che non ci sentono e quindi strillano parecchio passa la carta e ho detto passa la carta non sento passa la carta vanno avanti così per tutta la serata passa l'asse ho detto di passare l'asse non ho capito alla fine gli altri che stanno al bar si lamentano per il rumore il gestore va lì e gli dice guardati se potete parlare più piano perché altrimenti si lamentano i clienti come non ho capito se potete parlare più piano perché altrimenti si lamentano i clienti come non ho capito se potete parlare più piano non sento alla fine gli toglie le carte non potete più giocare mi dispiace così mi vanno via tutti i clienti allora i vecchietti si dicono ah forse ha detto che non possiamo giocare va bene se non si gioca più allora facciamo due perché è a cheirei